Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Sgrammaticando. Visto il discreto successo che ha riscontrato il primo video dettato, caricato qui sul canale YouTube qualche settimana fa, ho pensato di proporvene un altro. Il dettato è infatti un esercizio molto utile per esercitare l'ascolto, la comprensione e la scrittura, in questo caso in italiano. Per partecipare a questo video, diciamo interattivo, questo video esercizio, dovete semplicemente ascoltare il breve testo che leggerò e riportarlo il più correttamente possibile in un commento. Ma prima di cominciare ecco alcuni consigli. Prima di tutto non abbiate paura di sbagliare. Come recita il famoso modo di dire, sbagliando si impara. Leggerò il testo tre volte. Una volta lentamente, con la punteggiatura ovviamente, una volta a velocità normale, sempre con la punteggiatura, e una terza volta senza punteggiatura, come una lettura normale. Se non riuscite a svolgere l'esercizio, perché magari vi sembra troppo difficile o perché vi serve più tempo per scrivere, mettete in pausa il video quante volte volete. Siete pronti? Iniziamo! Era il 15 luglio di un'estate particolarmente calda, punto. Io e Amanda decidemmo di affittare una casa in montagna per una settimana, punto e virgola. Cambiare aria ci avrebbe sicuramente fatto bene, punto. Guardando gli annunci su internet Rimanemmo colpiti da una particolare offerta, due punti. Una villa in montagna, lontana da tutti, virgola. Ad un prezzo veramente stracciato, punto. Telefonammo al proprietario il giorno stesso, virgola. Chiedendo il motivo di un prezzo, così basso, punto. Lui ci rispose che aveva problemi a trovare clienti perché la villa era completamente isolata e il paese più vicino era a 30 minuti di auto, punto. Inoltre, la strada per arrivare alla villa era completamente distrutta e solo con un fuoristrada sarebbe stato possibile arrivare alla casa. Se avessimo accettato l'offerta, virgola, avremmo dovuto parcheggiare la nostra auto a casa del proprietario e lui ci avrebbe quindi accompagnato alla villa con il suo fuoristrada, punto. Ora una lettura normale o velocità normale sempre con la punteggiatura in modo che possiate ricontrollare e fare degli aggiustamenti. Era il 15 luglio di un'estate particolarmente calda, punto. Io e Amanda decidemmo di affittare una casa in montagna per una settimana, punto e virgola. Guardando gli annunci su internet rimanemmo colpiti da una particolare offerta, due punti. Una villa in montagna lontana da tutti, virgola, ad un prezzo veramente stracciato, punto. Telefonammo al proprietario il giorno stesso, virgola, chiedendo il motivo di un prezzo così basso, punto. Lui ci rispose che aveva problemi a trovare clienti, perché la villa era completamente isolata e il paese più vicino era a 30 minuti di auto, punto. Inoltre la strada per arrivare alla villa era completamente distrutta e solo con un fuoristrada sarebbe stato possibile arrivare alla casa, punto. Se avessimo accettato l'offerta, virgola, avremmo dovuto parcheggiare la nostra auto a casa del proprietario e lui ci avrebbe quindi accompagnato alla villa con il suo fuoristrada, punto. Lettura a velocità normale senza punteggiatura. Era il 15 luglio di un'estate particolarmente calda. Io e Amanda decidemmo di affittare una casa in montagna per una settimana. Cambiare aria ci avrebbe sicuramente fatto bene. Guardando gli annunci su internet, rimanemmo colpiti da una particolare offerta. Una villa in montagna lontana da tutti, ad un prezzo veramente stracciato. Telefonammo al proprietario il giorno stesso, chiedendo il motivo di un prezzo così basso. Lui ci rispose che aveva problemi a trovare clienti perché la villa era completamente isolata e il paese più vicino era a 30 minuti di auto. Inoltre, la strada per arrivare alla villa era completamente distrutta e solo con un fuoristrada sarebbe stato possibile arrivare alla casa. Se avessimo accettato l'offerta, avremmo dovuto parcheggiare la nostra auto a casa del proprietario e lui ci avrebbe quindi accompagnato alla villa con il suo fuoristrada. Bene, l'esercizio è finito. Qui sotto il video fisserò in alto il commento della persona che per prima eseguirà l'esercizio perfettamente, proprio come ho fatto nel primo dettato. Quindi, forza e coraggio! Sarete proprio voi a scrivere la soluzione dell'esercizio. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo!